Benvenuti sul canale Robo di Megalopoli, il canale che vi fa vedere i robot anche dopo che li avete già visti su tutti quanti gli altri canali. Oggi recensiremo lo Shingheter One della casa CCS Toys, anche conosciuta come Mortal Mind. Questo è un prodotto di fascia media e fascia media per quello che si intende su questo canale è qualunque cosa tra i 100 e i 300 euro. Veniva venduto a 250 dollari più o meno ed è stato venduto dal canale più popolare in Italia, quindi ShowZ a 350-400 se non sbaglio. E prima che mi insultate per il titolo chiappaclick sappiate che questo prodotto non è assolutamente un prodotto di fascia alta, ma è un prodotto solidamente dentro la sua fascia media. Quindi ve lo dico già subito, lasciatelo stare se non lo trovate al prezzo di rilascio. Sopra quel prezzo non vale assolutamente i soldi, andremo a vedere perché, per come, come mai vi sto facendo questo commento. Detto ciò andiamo avanti a vedere quella che è la scatola. Questa è la scatola, effettivamente non è il brown box perché all'interno contiene quel poster che avete appena visto e tutto quanto una roba in polistirolo e quindi non può essere estratto da questo. Questo per conti fatti funzionalmente è lo scatolone, comunque è un scatolone molto grosso, molto ricido e molto pesante quando lo tirate in mano. Mi raccomando ragazzi dovete avere lo spazio per tenervi questo tipo di scatole con voi perché ne occupano una marea. Sfortunatamente questa non può essere ridotta neanche, ha dentro molte cose, però vedete l'umino Lego è davvero minuscolo in confronto. Adesso che ho finito di raccontarvi quanto è marrone e quanto è grossa la scatola, andiamo avanti e vediamo gli accessori del robot. E come potete vedere da quella che è l'immagine sullo schermo c'è abbastanza roba, in realtà non è tantissima roba ma sembra molto di più perché occupa un sacco di spazio. Il Getter 1 è molto grosso, ve lo dico in anteprima, comunque vedete un bel manuale a colori con le istruzioni che fa vedere cosa si può fare, come bisogna farlo, come si attaccano, come si staccano i pezzi. Poi un piccolo fogliottino che ci ricorda dove sono tutti quanti i led, ce ne sono davvero una marea o un milione di pile. E iniziamo con quelle che sono le mani. Allora, mentre la colorazione sulle mani va bene, queste mani sono da buttare nell'immondizia direttamente perché sono fatte in gommina. Che cosa vuol dire? Tutte quante le mani, dato che ci ho messo un paio di mesi a arrivare da me e probabilmente ha avuto un'escursione termica non da ridere, si sono ristrette. Quindi per infilargli qualsiasi cosa dentro le ho dovuti bagnare nell'acqua calda. Forse solo questo è il problema, direste va bene, ma chi ha un pochettino di esperienza, dei vecchi modelli in gommina, ragazzi, dovrebbe sapere che la gomma si tende a crepare, a rompersi. Quindi assolutamente male su quello. Questo è il blocca buco nella schiena se uno non vuole attaccare le ali. Questo è un plug che ci sta sulla schiena. Queste sono le lame famose dello Schienketer. Allora, sulle braccia, queste qui, allora, sono colorate metallizzate e sono leggerissime. Però ragazzi, se vedete, si riesce a vedere anche dallo schermo che non sono colorate benissimo. Questo è l'effetto che hai colorato, ce l'ho l'esperienza sull'aerografo, quando spari troppo velocemente la colorazione metallica. L'effetto non è male visto da distanza, ma visto da vicino riesce a vedere il pigmento del colore o i flake, quelli che sono i pallini. Andiamo avanti, questo qui è il pezzo che sta sotto la vita del robot, quello è il raggio dell'ombelico, questa è la pallina d'energia con la lucetta dentro. Altro peccato capitale del robot, le ali. Allora, ragazzi, queste ali fanno schifo. Non c'è altra maniera, non ho capito chi è che può dire che sono un capolavoro, a parte che bisogna fargli una forza enorme. Anche queste sono di gommina, ragazzi, per cui anche queste sotto acqua calda, anche queste si creperanno, attenzione all'escursione termica. Hanno alleggerito la parte centrale, boh, io non so cosa avevano in mente, perché il robot non costa poco, ma quelle sono terribili. Comunque andiamo avanti, vediamo display stand bello come quello dello Shingheter Zero, base d'acciaio, un'evoluzione rispetto a quella dello Shingheter Zero, con vari agganci disponibili. Questo poi si aggancia sotto il pube del robot e tiene una posizione fissa. Arma gigantesca numero uno. Allora, queste armi sono semoventi, sono colorate bene. La colorazione metallizzata è venuta meglio che quella sulle lame e sulle braccia, quindi su alcuni colori. Quindi mi chiedo semplicemente, magari sono andate a risparmio con un paio di metallizzati. Ragazzi, sono metallizzati, metallizzati, ma è ok. Comunque, essendo un prodotto di fascia media, non ci aspettiamo la perfezione di niente. Poi andiamo, scusate, vi stavo facendo vedere, queste sono gigantesche, ragazzi, dovete davvero avere lo spazio. Sono 40 cm di arma, pesante tra l'altro, nonostante sia in plastica, perché il bastone in ferro è comunque enorme. Anche qui abbiamo l'ascia, che come potete vedere si apre e si chiude, appuntitissima. Ragazzi, se avete bambini in casa, nascondetela, perché passano due minuti, si pigliano ammazzate con sta roba, si fanno davvero male. Comunque, questo ha colorato anche lui meglio delle lame sugli avambracci, quindi mi chiedo se ci sia stato un problema. Vedete, discolorazione già al volo. Altro discorso, ci sono imprecisioni sulla colorazione e su tutto quanto robò. Ci vuole un occhio un pochettino allenato per vedere, ma ci vuole poco. Questo è lo spludge per rimuovere i pezzi dagli incastri. E per fortuna ci sono tutte quante le batterie per illuminare tutti quanti i più eventuali ricambi. Ecco, questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo e per il quale Mortal Mind si prende un po' di amore da me. Adesso che abbiamo finito di vedere tutto quanto, iniziamo a vedere quello che è il robot di per sé e poi gli snodi. Allora ragazzi, davanti ci vediamo lo Shingheter. Come vedete non sono stato né a pesarlo né a misurarlo, perché me ne sono dimenticato. A quel punto era già in una posa all'interno della mia vetrina e che se lo tocco esplode praticamente. Comunque, è un modello pesantissimo e un modello molto alto. Non vorrei dire una stupidata, ma mi pare sia un pochettino oltre 25 cm alle spalle. Detto ciò, una cosa che vediamo immediatamente vedendo il robot è che sfortunatamente non si vede molto e che non si riesce a capire se tutte quante le parti sono colorate. Ed ha quell'effetto colorazione asbro. Cioè, chiamiamola così, mentre il bianco è colorato, gli ori sono colorati. Poi li andiamo a vedere meglio nel dettaglio quando vediamo gli snodi. Alcune parti del rosso, ad esempio quelli della testa, non mi sembra neanche abbiano una passata di lucido. Tra l'altro la colorazione che hanno usato, che sembra in tonalità diverse, semplicemente hanno utilizzato lo stesso colore su basi diverse, con sfumature che ci sono in alcuni punti dovute all'imprecisione. La maggior parte è fatto bene, ma non è tutto quanto fatto benissimo. Detto ciò, è un robot con delle proporzioni, non è neanche scimmiesche, perché scimmiesche comporta avere un busto grande. Questo ha le braccia molto lunghe, con le spalle alzate dello Shingheter, ma un busto molto piccolo. Questo, secondo me, comporta, boh, delle proporzioni non perfette, con poi quegli snodi chiaramente a vista, che sono soluzione tipica di CCS Toys, che però a me non fanno impazzire da un punto di vista estetico. Comunque, appena abbiamo finito, adesso andiamo a vederlo nel dettaglio, vediamo gli snodi cosa fanno. Allora, guardiamo subito, come prima cosa, gli snodi colorazione della testa. Allora, la testa va su, va giù e ha uno snodo alla base del collo, però la mobilità è un pochettino limitata da non capisco che cosa. Fa anche il TikTok, comunque, snodabilità completa. La testa, quel rosso lì a me non sembra neanche colorato, sembra malappena una passata di quello che viene chiamato semilucido. Comunque, lo scalp della testa è bello ed è preciso. Io ho questo robolo preso perché mi piaceva lo scalp, per essere onesto. Quindi uno scalp molto preciso. Vediamo, allora, il braccio che si alza fino all'altezza delle spalle, facendo alzare la spalla proprio, quindi eccitando, mentre facendo un trucco. Mentre ogni tanto vedremo che l'armatura si dovrebbe alzare. In questo caso l'armatura rimane chiusa e si alza tutto quanto, grazie allo snodo a farfalla molto pronunciato che c'è. Adesso andiamo a vedere, c'è la possibilità all'avambraccio di andare a girarlo. C'è questo doppio snodo su il gomito, che però non permette una chiusura, cioè in realtà arriva sui limiti tecnici, quindi completo. La mano è agganciata con un pallino. Allora, snodo a farfalla che gli permette questo truccone di alzare le braccia, comunque è abbastanza apprezzato. Uno snodo a farfalla completo, quindi su un universale, se non sbaglio, sui 360 gradi. Andiamo a vedere la vita. Snodo parte alta, ma non parte bassa, oppure c'è la possibilità di ruotare la vita, ma non c'è quel doppio ab crunch. Allora, come vedete, quella specie di cintura continua a muoversi come lo Shimma Singer Zero, che lo perdeva al volo, ma almeno non salta via. Adesso vediamo subito le gambe, gambe super snodate. Allora, spaccata la van d'amma avanti e indietro con questi snodi molto duri, le gambe assolutamente pesanti. Vediamo qui il snodo doppio all'altezza del ginocchio, con l'armatura delle gambe che si piega, che è una gimmick che apprezzo davvero molto, perché non è particolarmente da facile. Vedete i pannelli che rientrano riescono. Poi per i piedi snodo molto rigido su quello che il piede ha l'altezza del gomito. E snodo assolutamente inutile, perché è troppo leggero sulla punta del piede. Ecco, questo potevano anche non farlo, perché non serve realmente a niente, perché poi non tiene peso. Probabilmente l'hanno detto, che hanno detto, oh, sentinello fa, facciamolo anche noi. Comunque è spaccata avanti e indietro senza troppi problemi. Allora, dal punto di vista degli snodi, un prodotto assolutamente completo, che permette di fare ogni tipo di pose, che abbiate in mente, con i limiti che sono quelli effettivamente tecnici del robot. Quindi per il cosino si poteva fare, se quello bisogna dire che CCS Toys ha fatto un ottimo lavoro. Adesso vediamo le gimmick dell'illuminazione che avevo odiato sullo Shingheter e in questo caso sono state fatte molto bene. Allora, diventa questa specie d'alberello di Natale nel limite di quello che si vede e sono molto facili di accendere e le luci non si spengono dopo 10 nanosecondi come lo Shingheter. Ho sospetto che se provo ad accendere adesso a un giorno dalla recensione probabilmente non si accendono più. Comunque, adesso vediamo subito i nostri confronti all'americana e questa volta saranno un pochettino più lunghi del solito. Lo vediamo subito confrontato con quello che è lo Shimma Zinger Zero e per essere onesto, qui c'era il Sensei che aveva detto che questo era un prodotto furbo. Questo è un prodotto furbo perché hanno ricercato l'inner flame completamente. anche le stesse soluzioni di snodi a vista sulle anche che lo Shingheter ha malapena in realtà dicendo sia elaborazione personale ha le stesse proporzioni strane queste spalle staccate dal busto questi gamboni e queste bracione a me i gambioboni non dispiacciono però mentre hanno tutte e due queste proporzioni strane ragazzi non so come dirvelo. Visti non hanno l'effetto pupi siciliani ma hanno un effetto busto molto piccolo come uno che passa molto tempo in palestra a fare gamba e braccia ma si dimentica di fare i pettorali comunque non particolarmente armonici e mentre con il Mazing Zero funziona un pochettino meglio perché c'ha il petto che si infiamma e quant'altro che copre quegli snodi sulle spalle in questo caso non vengono coperti sullo Shingheter e quindi si vedono questi pezzi d'acciaio che si agganciano avanti e indietro non perfettamente amatissimo. Comunque adesso lo mettiamo in confronto col Gau Geiger della Post Plus perché l'ho rimontato e perché le dimensioni sono monosimili allora ragazzi quello adesso è un prodotto di fascia alta che si merita la fascia alta quello di sinistra è un prodotto di fascia media che deve essere venduto a fascia media quindi ancora ve lo ripeterò durante tutto quanto il video questo prodotto non merita assolutamente un prezzo sopra i 250 euro per livello di finitura, ingegneria e tutto quanto comunque era semplicemente sono prodotti di prezzo radicalmente diversi che fanno cose molto diverse però col prezzo quale aveva preso Shiozeta era un prezzo simile quindi abbastanza da vergognarsi a confrontarli e lo mettiamo a confronto con un vero prodotto di fascia alta il Flame Toys Tarn allora più che altro ce l'avevo tra le mani perché sto facendo, sto mettendo a posto un pochettino i ripiani delle mensole quindi vabbè scusate questi non c'entrano niente però quando si parla di proporzioni scimmiesche si è in mente quelli del Tarn non quelli del Getter One per cui anche il busto è grosso in quel caso gambe grandi, spalle grandi e busto piccolo non so, ho visto proprio poche persone avere queste proporzioni in realtà comunque, finito qua allora, adesso vediamo subito quelle che sono le conclusioni come al solito iniziamo prima con i contro poi con i pro poi se lo consigliamo per chi lo consigliamo come contro come si è appena detto proporzioni abbastanza terribili quindi questo petto piccolo braccia molto lunghe gambe molto grosse alcune cose si sono delle scinghette altre sono soluzioni che hanno utilizzato per riciclare l'inner frame dello Shiba Zinger Zero seconda parte la colorazione la colorazione nonostante sia fatta bene in molte parti non è precisa in altre si vedono sbavature per quei 4 che hanno visto la mia recensione dell'Iper Grandzord ci sono cose molto simili a riguardo di colori che sbavano dentro altri colori perché secondo me non hanno usato un primer altro contro il metallizzato non è spruzzato ugualmente bene su tutte quante le armi gli accessori contro terribile le mani le mani in gommina da tirargliele dietro ragazzi non si può far spendere 250 bombe per mettere le mani in gommina perché ha deciso di risparmiare 2 centesimi a manina però le mani prensili sono abbastanza buone adesso vediamo su quelle che sono i pro allora per i pro per gli amici del metallo c'è tanto metallo un prodotto molto pesante per gli amici che hanno tanto spazio è un robot molto grosso per gli amici che hanno lo Shimazinger 0 è un robot che alla fine assomiglia a quello quindi stanno relativamente bene messi vicino un altro pro hanno migliorato il dipartimento luci anche se preferirei vedere un'accensione a led come quelli dell'Alphamax che da questo punto di vista sono i migliori è molto posabile come pro ed ha uno sculpt che onestamente io l'ho preso per lo sculpt perché mi piaceva e in realtà il mio problema è più con la colorazione che in alcune parti è colorato dall'altra parte no per cui come mai non lo vado a raccomandare allora non lo vado a raccomandare per una questione di prezzo e di canali questo è stato venduto inizialmente su ShowZ a un prezzo troppo alto questo ragazzi non è un prodotto di fascia alta non vi state portando a casa anche se lo prendete a prezzo originale un prodotto di fascia alta per un livello per un prezzo di fascia media questo è a malapena un prodotto di fascia media il tipo di sbavature di imprecisioni e di scelte a risparmio che ci sono non sono giustificate per una cosa che costa 250 dollari nonostante questo sia un canale che vada poco al prezzo in questo caso ragazzi ce l'avete in mano e dite vabbè secondo me hanno riciclato lo Shimazinger Zero con una nuova skin detto questo lo raccomandiamo per chi piace molto questa estetica e non si cura molto delle proporzioni a chi non è particolarmente interessato della precisione della colorazione a chi piacciono robot molti pesanti a chi piacciono robot che occupano tantissimo spazio non è raccomandato a quelli che al quali piace molto la colorazione a chi è interessato alle proporzioni e onestamente ragazzi io questo non lo raccomando per il semplice motivo che più lo guardo e più mi rendo conto che gli manca qualcosa forse è la passione che esce fuori da altri modelli pure quelli 3.0 questo non ce l'ha sembra più un compitino nel quale abbiamo detto vabbè abbiamo fatto Shimazinger Zero attaccaci la skin abbiamo fatto pure il Getter One questa semplicemente come impressione molto semplice mi trovo d'accordo con un altro censore che mi fa vale questo non ha anima e ha ragione io probabilmente questo lo farò uscire lo cambierò con un altro modello a un certo punto vabbè dai robot di megalopo e tutto quanto ciao ragazzi alla prossima tutorial ok